l'ultima cosa c'è in loic tutti i trasporti in loco perché una volta arrivati in una città volete capire quali sono le cose più convenienti quindi quello che vado a fare quasi sempre è prima di tutto dubai quindi arrivi a dubai e quindi qui vado subito a cercare le app per ricerca stupidissima su google up to move around in dubai e quindi qua c'hai già le 19 app più usate per muoverti in giro a dubai cari carim vojati rta e poi vabbè ci sono le a varie altre categorie e alla fine queste queste dopo che avete fatto tre o quattro ricerche questo sito è buono c'è questo post è buono infatti quelle che si usano di più sono carim per i taxi qui a dubai e rta per i trasporti pubblici e se è post carim carim rta e ti muovi ti muovi dappertutto sono le app più conveniente se invece per ipotesi fosse uno stato fosse un'altra città o uno stato dove non si parla così bene in in inglese quello che faccio è al posto di cercare in inglese per quella città cerco nella lingua locale per esempio dovessi andare a madrid up per muoversi a madrid faccio copia in spagnolo incolla e qui ci sono tutte le le ma le app più utilizzate a madrid ce faccio ovviamente ovviamente vado all'interno di vari vari post vari articoli e poi le trovo facendo un confronto tra i vari articoli ovviamente qui poi mi direte ma non riesco a leggere io in spagnolo no problem c'è google che sistema tac mettimi il blog il blog in italiano ovviamente sarà un italiano un po approssimato dato che la traduzione automatica di google però sicuramente si riesce a capire e poi una volta che avete i consigli delle app le andate a fare un confronto e vedete voi quelle che sono le più convenienti comunque alla fine essendo stato a madrid quella che si usa di più è free to move e city mapper invece per è per la metro e qui hai hai tutto il discorso di come muoverti in metro da una parte all'altra un'altra cosa che uso molto per i trasporti all'interno della città è google maps perché è fenomenale spaziale quando devo muovermi in loco per metro e altre cose uso sempre google maps perché va meravigliosamente c'è per esempio a londra a londra io vivevo qui a londra vivevo qui river height si grazie da river height a per esempio liverpool street sono 21 minuti poi di solito al posto di prendere il bus perché passava il bus sotto casa posto di prendere il bus qui andavo a piedi andavo a piedi in stazione a stratford tanto erano circa 10 minuti arriverai da stratford a piedi e poi da stratford a liverpool street ma poi la cosa figa di google maps da desktop e anche da mobile che tu no adesso mi tocca rimettere tutto tac e poi man mano che lo imparate ad usare uno strumento potentissimo perché tu puoi anche fare una cosa del genere questo lo trascini e tipo devi andare a town tower of london lui mentre tu lo trascini ti fa vedere le altre cose che devi prendere ti dà già quanto 50 quanto dura il viaggio 34 minuti ti dà già i vari orari e ti dà già I vari stop della metro e se vai ad approfondire puoi anche mettergli tipo non parti ora ma parti a tra 40 minuti ora però bisogna stare attenti ai fusi orari perché adesso qui sono le 2 19 ma a londra sono tre ore indietro quindi sono è mezzanotte e no è mezzanotte 20 si è mezzanotte 20 quindi le 3 19 di qui le prende come mezzanotte 20 di londra quindi c'è anche questa cosa da taking ricordarsi nel caso in cui state guardando per un altro in un altro paese però è fighissimo poi per ipotesi volete andarci in bicicletta 29 minuti in bicicletta volete andarci camminando sono 4,9 miglia che sono circa 7 chilometri e mezzo 8 chilometri io considero una in corsetta faccio 10 chilometri all'ora in corsetta quindi fino a 10 chilometri se voglio andarci di corsa li faccio in un'ora queste per esempio sono 6,4 miglia infatti mi ricordo che Buckingham Palace era 10 chilometri circa di distanza da dove abitavamo 6,5 miglia dovrebbero essere circa 16.5 miles in chilometri si sono 10 chilometri e mezzo e quindi sapendo che in corsetta faccio 10 chilometri all'ora 6 chilometri in 6 minuti faccio un chilometro sapevo che da casa mia fino a Buckingham Palace ci mettevo un'ora di corsa però vabbè poi approfondite Google Maps perché è una figata ha un sacco di opzioni un sacco di cose e ben fatto